Lezioni itineranti nel centro storico della città. Questa è una bellissima iniziativa dell'Istituto Tecnico Geometri Carlo Forti di Teramo. Insomma, i ragazzi si mettono alla prova tecnicamente nel centro storico della città. Sì, esatto. Questo è un po' il profilo educativo e formativo di questa mattinata straordinaria di scuola aperta ed inserita nel tessuto sociale, tecnico e così costruttivo della città di Teramo. Il profilo del tecnico geometra riveste ogni giorno di più, ogni tempo di più, un peso rilevante. E allora abbiamo pensato, sfruttando la possibilità del PNRR con il quale la nostra scuola è riuscita ad acquistare un'importante strumentazione che dà la possibilità di percorrere una didattica innovativa ecco, abbiamo pensato di portare i nostri studenti nei cantieri. E oggi, in Piazza Martri della Libertà, questi giovani stanno procedendo in alcune dimostrazioni tecniche. Che cosa stanno facendo in particolare? Certamente. Da alcuni anni il nostro istituto si è aperto al territorio stringendo delle collaborazioni con il Collegio dei Geometri di questa città, non solo, anche con le più importanti imprese di costruzioni del circondario. Stanno eseguendo una serie di rilievi, una serie di rilievi importanti. Alcuni di tipo tradizionale, attraverso il metodo della trilaterazione con utilizzo del flessometro, altri invece più avanzati. Che tipo di esperienza è stata questa per te e per i tuoi compagni? Noi ci troviamo nella seconda edizione delle lezioni in itinere, che hanno coinvolto tutte le classi dell'Istituto Forti di Teramo, quindi dalla prima, dalle prime alle quinte. E quindi noi ci ritroviamo nel centro della nostra città Teramo, con gli strumenti, quali possono essere appunto la stazione totale, il laser scanner, a fare dei rilievi, quindi noi mettiamo in atto quello che impariamo nelle lezioni. E poi andiamo anche in giro a visitare questi cantieri. Noi siamo molto contenti, quindi ringraziamo sia la preside che i professori e anche il collegio geometri della città di Teramo, che hanno permesso di fare tutto ciò e ringraziamo anche perché queste esperienze a noi ci aprono molto dal punto di vista lavorativo.